I gruppi di potere da sempre hanno amato riunirsi in club esclusivi inaccessibili ai comuni mortali, dalla massoneria passando per la P2 fino al World Economic Forum. Oggi parleremo di una di esse, poco conosciuta, ma che a quanto pare ha nelle mani i destini di intere nazioni. E lo faremo con Davide Rossi, autore di un libro edito da Ariane Dietrichi intitolato La Fabian Society e la pandemia. Benvenuto Davide, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Davide, il tuo libro nasce da una domanda che tutti si pongono. Perché un personaggio come Roberto Speranza, che alle spalle non ha un partito solido e che è praticamente inesistente in Parlamento, abbia avuto dei ruoli così importanti in ben tre governi? Ci racconti questa genesi? Sì, la genesi è proprio questa, cioè il cercare di comprendere come mai lui fosse arrivato a ricoprire il tuo ruolo. Dato che, come tu accennavi, ha un partito alle spalle che si chiama Liberi e Uguali, che è un partito del tutto inesistente nel Paese e anche in Parlamento ha una manciata di parlamentari, quindi non è determinante per formare nessuna maggioranza. Sì, pensi che prima di lui, al Ministero della Salute, c'era una certa Giulia Grillo, che anche essa è una sconosciuta, però perlomeno nel governo Conte 1, quello 5 Stelle-Lega per intenderci. Giulia Grillo rappresentava il maggiore partito del Paese, i 5 Stelle appunto, e lei stessa poi era medico, era responsabile delle politiche sanitarie del movimento. Quindi c'erano delle ragioni concrete, normali, diciamo così. Con Speranza non c'è nessuna di queste, appunto abbiamo appena detto che era partito, abbiamo penso visto tutti che si tratta di un personaggio, come posso dire, privo di qualsiasi personalità carismatica, non è certamente uno statista. In più, non viene dalla sanità e il suo precedente incarico di governo, pensate, era l'assessore all'urbanistica del Comune di Potenza e oltretutto, ancora più strano, ancora più misterioso, il fatto che Mario Draghi l'avesse confermato nel suo governo in quel ruolo. Ricordo che la Lega chiedeva una discontinuità nella gestione delle politiche sanitarie, comprensibilmente, perché nella prima fase, quando lui era ministro del governo Conte II, quello che ha, diciamo, per primo affrontato la vicenda Covid-19, noi siamo stati in paese con il maggior numero di morti per centomila abitanti, secondo i dati ufficiali che ci ha forniti lo stesso Stato e certificati da università prestigiose come la John Hopkins, noi abbiamo avuto il maggior numero di morti per Covid per centomila abitanti. Quindi non c'era nessuna ragione affinché lui restasse in quel ruolo. Quindi ho cercato di indagare quali fossero gli ambienti di potere dai quali lui veniva o comunque quali era legato. E facendo questo percorso a ritroso, passando attraverso quello che è il suo padrino politico, che è Massimo D'Alema, sono arrivato appunto alla nostra Fabian Society. La Fabian Society, che dà il nome al libro, è praticamente sconosciuta alla massa. Di cosa si tratta esattamente? È un'associazione di tipo massonico? È una società politica elitaria fondata nel 1884 in un ristorante di Londra, composta dall'elite vittoriana dell'Inghilterra di allora, uomini di affari, scrittori, politici. Addirittura c'era anche uno spiritista importante, un aristocratico Frank Podmore. Gli spiritisti e gli occultisti in questi ambienti non mancano mai, dobbiamo notare. Ed era una società politica che fin dalla sua fondazione si ispirava al socialismo. Si definisce una società politica socialista. Il loro scopo era quello di instaurare un governo mondiale socialista di stampo tecnocratico che vedesse il primato della scienza. Ecco, ancora oggi il loro statuto prevede grosso modo il perseguimento di questi obiettivi, quindi la collettivizzazione dei mezzi di produzione, l'abolizione della piccola proprietà privata e appunto una società socialista ateista, ma che preveda però come forma di nuova, potremmo definire la religione, la scienza. Ed è questo un qualcosa che assomiglia molto a quello che noi stiamo vivendo da due anni a questa parte, la scienza o presunta tale che ci viene posta come una fede, qualcosa a cui uno deve credere senza capire e senza così, cioè dimenticando che anche la scienza è una creazione umana e come tutte le creazioni umane è soggetta alle infiltrazioni del potere, è soggetta agli errori, è soggetta alle manipolazioni e alle menzioni. Eppure ci viene detto voi non avete gli strumenti per capire, adeguatevi perché lo dice la scienza. Poi ti accorgi che questi scienziati sono pieni di conflitti di interesse, che ci sono altrettanti scienziati ancora molto più titolati che dicono cose completamente opposte ma anche ai quali i mezzi di comunicazione principali non danno voce. Però ecco, questa è l'impostazione e quello che mi ha colpito, e per questo ho deciso poi di scriverci un libro sulla Fabian Society, che non è ovviamente l'unica società editaria che ha influenza nelle vicende del potere umano, però questa mi ha particolarmente interessato per il legame con Speranza inizialmente e poi perché c'è una coincidenza veramente impressionante fra la visione del mondo che hanno sempre avuto i Fabiani e il periodo storico che noi stiamo vivendo. Quello che da quando è scoppiata la psicopandemia, la Covid-19, siamo costretti a subire. Non a caso il romanzo più citato in questi ultimi due anni, quello sulla bocca di tutti, è quel 1984 scritto dal Fabiano George Orwell. E se vuoi, su questo ci sono alcune cose interessanti da far notare. Tu prima hai elencato i punti programmatici di questa associazione. Molti di essi sono perfettamente sovrapponibili a quelli del Forum di Davos e del Grande Resi. Fabiani e World Economic Forum sono in qualche modo legati? Guarda, quello che io ho potuto verificare è che i mondi dell'establishment internazionale, anche quando si richiamano a principi politici diversi, sono sempre strettamente connessi. Sono soprattutto uniti, almeno da un tratto distintivo molto importante e comune, che è quello di un grande timore e di un grande disprezzo verso le masse. Quindi loro si considerano un qualcosa di diverso dalla popolazione, una crema, diciamo così, che ha gli strumenti per poter governare le masse, che se lasciate a loro stesse possono diventare pericolose, incontrollabili, e quindi da governare strettamente e direi da controllare. Questo è quello del controllo e quello del timore delle masse, è comune a quasi tutte le società elitarie, ai gruppi di potere. Quindi non è per nulla sorprendente che a Davos la pensino in modo estremamente simile ai Fabiani. Si pensi poi che i Fabiani, e così spieghiamo anche perché si chiamano così, hanno un'idea del potere che è fatta di una permeazione delle principali istituzioni finanziarie e politiche internazionali, che deve avvenire in modo pervasivo e graduale e nascosto. Loro ad esempio si vantavano di avere infiltrato all'inizio del Novecento le principali forze politiche liberali e radicali, quindi ci entrano in modo sotterraneo e da lì poi fanno passare la loro visione del mondo. Si pensi che molti Fabiani in Inghilterra frequentavano anche il British Fascist Party, cioè il partito fascista britannico di Sir Oswald Mosley, che era anch'esso un Fabiano, è stato anche ministro di un governo laborista, e poi si è, almeno apparentemente, distaccato dal fabianesimo, ma a lungo ha ricoperto ruoli importanti e comunque noi troviamo che alcuni Fabiani frequentavano entrambi gli ambienti. Poi c'è un altro caso di cui, diciamo, riporto la testimonianza del libro, che è quello del cosiddetto Coefficient Club, cioè un dinner club che è stato fondato dai coniugi Sidney e Beatrice Webb, i motori, i elementi pensanti di tutta l'organizzazione fabiana, che hanno creato questo club che si riuniva a cena in prestigiosi alberghi e locali del centro di Londra e che vedeva riuniti, oltre insieme a loro, esponenti Fabiani, alcuni importanti esponenti della destra imperialista e liberale britannica e lì insieme facevano alcune strategie. I verbali di queste riunioni sono ancora oggi disponibili presso gli archivi della London School of Economics, che è l'Università dei Fabiani. Quindi questo per dirti come ci sia una permeazione e una compenetrazione a quei livelli che rappresentano, loro dicono, gli stessi Fabiani dicevano lo 0,5% della popolazione mondiale, che è un qualcosa che spesso anche si scontrano, ovviamente come in tutti gli altri campi della gira umana, specialmente quando c'è di mezzo il potere, non sto dicendo che siano sempre tutti d'accordo e facciano chissà quali piani tutti quanti insieme, spesso ci sono scontri e anche furibondi, però come dicevo all'inizio di questo mio intervento, di sicuro loro ritengono che le masse debbano essere controllate. Nel libro tu metti in relazione la Fabian Society e la pandemia, in che modo l'emergenza sanitaria si coniuga a questi personaggi? Andiamo a rispondere a questa tua domanda a partirei dal libro di cui accennavo prima, quello di Orwell, di George Orwell, 1984. Perché è il libro più citato in questo periodo della cosiddetta pandemia? Perché la società distopica e del controllo che viene descritta così magistralmente da Orwell in quel libro è estremamente vicina a quello che noi stiamo vivendo. Si pensi appunto alle forme di controllo che ad esempio attraverso il Green Pass, le forme di controllo tecnologico che sono state introdotte, si pensi alla neolingua di cui parlava Orwell, quindi allo stravolgimento del significato delle parole. Lui parlava di odio che veniva definito amore o di guerra che veniva definita pace, quindi un grande inganno. Si pensi ad esempio noi oggi il Green Pass che ci viene venduto come un strumento di libertà, cioè un lascia passare, un qualcosa che ha una scadenza che diciamo tu puoi conseguire solo se fai determinati trattamenti sanitari che lo Stato ti impone per poter accedere a delle libertà alimentari, viene definito uno strumento di libertà. Orwell era un Fabiano come ho accennato prima e il titolo 1984 coincide con 100 anni esatti dalla fondazione della Fabian Society che come dicevo prima è stata fondata nel 1884. Perché questa tempistica? Perché la strategia dei Fabiani che prendono il loro nome da quinto Fabio Massimo il temporeggiatore, il grande console romano che vinse le guerre puniche, ritengono come la tattica militare appunto di quinto Fabio Massimo che il potere vada conquistato in modo molto graduale, molto lento. Loro erano ammiratori del modello sovietico, dello Stato socialista sovietico, ma erano più raffinati e ritenevano che la società del controllo che loro volevano instaurare fosse meglio perseguirla non attraverso un atto rivoluzionario violento immediato come è successo con la rivoluzione bolshevica ma attraverso questa strategia lenta di penetrazione del potere delle istituzioni che in maniera quasi impercettibile si sarebbero fatte ricettrici delle idee fabiane. E questo fatto ci dice che la situazione che noi stiamo vivendo è Orwell, diciamo così per completare il discorso di Orwell riteneva che cento anni potessero essere un tempo sufficiente per poter ottenere questo risultato con la gradualità che vi dicevo prima con la lentezza che vi dicevo prima. Io ritengo che Orwell che era un socialista potremmo dire in buona fede un socialista convinto tanto che va anche a farsi ferire da un cecchino franchista durante la guerra civile spagnola per combattere per la causa ad un certo punto è come se si spaventi dei disegni totalitari che vedeva nelle menti dei propri compagni e con questo romanzo in qualche modo ci mette in guardia che chi legge quel romanzo oggi può vedere la coincidenza impressionante di questi fatti. Poi per completare la risposta alla tua domanda se noi io in questi anni l'ho fatto ho letto nel giornale dei Fabiani che è il New Statement fondato all'inizio del Novecento e tuttora diffuso anche se quasi esclusivamente online in questo giornale che tra l'altro ha come editorialisti personaggi come Gordon Brown l'ultimo premier laburista inglese Fabiano anch'esso ecco in questi articoli del New Statement noi troviamo una narrazione che è perfettamente coincidente con tutte le cose che Roberto Speranza e i governi di cui ha fatto parte hanno applicato in questi anni il lockdown come un elemento moralisticamente positivo secondo il New Statement dai lockdown è uscita un'umanità migliore un'umanità più attenta alle esigenze del pianeta più attente alla salute degli altri esseri umani che ha ottenuto la conquista secondo loro dello smart working una narrazione moralistica del buon cittadino che si adegua ai diktat dello Stato che è ciò che Speranza l'uomo privo di qualità è però riuscito a venderci molto bene qui in Italia il lockdown e il vaccino come unico elemento osservifico di questa pandemia sono stati dobbiamo dire venduti in modo molto efficace da parte di Speranza e quelle modalità quelle politiche sono esattamente quelle che troviamo descritte negli scritti fabiani anche quelli contemporanei quelli attuali abbiamo quindi una società elitaria che con pazienza ha reclutato la classe dirigente di vari paesi tutto questo fa nascere un importante interrogativo qual è lo scopo di tutto questo? Allora intanto il luogo dove si formano queste persone queste classi dirigenti e dal quale è passato anche il nostro Roberto Speranza è la London School of Economics che è un'università un centro della tecnocrazia mondiale fondata dai Fabiani alla fine dell'Ottocento è un'università prestigiosissima dalla quale occorre passare se si vuole accedere a determinate istituzioni penso al Fondo Monetario Internazionale penso alla Commissione Europea penso ai board delle principali banche d'affari o alle istituzioni politiche considerate che dalla London School sono usciti 30 capi di Stato in giro per il mondo che attualmente 60 ex studenti della London School fanno parte di parlamenti di mezzo mondo ci sono adesso non ricordo il numero esatto ma un numero elevato di primi Nobel li ho riportati nel libro c'è una tabella con i nomi di tutti i primi Nobel che sono usciti dalla London School si pensi che George Soros è un prodotto perfetto della London School lì lui si è laureato ha preso il master e poi ha preso anche il dottorato i nostri Romano Prodi Carlo Cottarelli l'attuale presidente della RAI nominata da Draghi una signora ha studiato la London School la Ursula von der Leyen l'attuale presidente della Commissione Europea quindi diciamo che evidentemente quello è un luogo dove si intrecciano le relazioni giuste per poter accedere a certi consessi e il luogo che ti dà una legittimazione un imprimato di affidabilità per poi ricoprire certi incarichi quindi quello è il luogo io ricostruisco nel libro nel particolare il sistema di potere che passa anche attraverso la London School per ciò che riguarda a che pro allora noi abbiamo a che pro fanno queste cose perché questa svolta un po' l'abbiamo accennato nelle risposte di prima cioè le elite ce lo dicono ancora oggi così come se lo dicevano allora allora intendo quando il fabianismo fu fondato ritengono che ci sia un problema di sovrappopolazione questa è una fissazione che anche attualmente i nostri Bill Gates lo Schwab del forum di Davos i stessi Rockefeller apertamente ci dicono che il pianeta ha un problema di sovrappopolazione che siamo troppi che l'impronta ecologica lasciata dall'essere umano sta provocando molti problemi al pianeta e quindi loro hanno questo problema che ci dicono esplicitamente tant'è vero che i fabiani erano esplicitamente eugenisti cioè erano sostenitori dell'eugenetica cioè ritenevano che non dovesse essere lasciato il popolo la libertà di procreare così appunto liberamente ma che il numero delle nascite e anche la qualità delle nascite doveva essere controllato e stabilito e pianificato così come si pianifica tutto in una società socialista perché la proliferazione specialmente di persone con problematiche psichiche o fisiche non era una cosa gradita al fondo di queste preoccupazioni sta il fatto che più la massa è piccola di numero più è facilmente controllabile l'ossessione degli uomini che governano e disegnano gli scenari e le strategie a livello internazionale è la preoccupazione che le masse possono andare fuori del loro controllo quindi oggi la tecnologia consente di aumentare fortemente questo controllo su una popolazione che nel giro di pochi decenni è enormemente aumentata quindi questo è probabilmente il momento perché dicevamo prima la tattica dei Fabiani il temporeggiare sì è un temporeggiare anche molto lungo per mettere in fila tutte le condizioni ma quando queste condizioni si sono finalmente tutte allineate la loro strategia prevede di colpire e colpire duramente quindi l'impressione è che per le condizioni diciamo così internazionali per la malleabilità a cui ormai sono ridotte le popolazioni incidentali per le possibilità che oggi offre la tecnologia della sorveglianza sia arrivato il momento di provare a sperare il colpo decisivo detta così potrebbe essere considerata un'ipotesi complottista ma se osserviamo bene i segni possiamo vedere che effettivamente il controllo della popolazione sembra essere il nodo centrale nel piano nazionale di ripresa e resilienza ad esempio una cospicua fetta di questi fondi va alla digitalizzazione e la tecnologia sembra essere un fattore fondamentale per il controllo la riduzione della popolazione poi è alla base delle teorie maltusiane dalle quali deriva il neoriberismo prima parlavi ad esempio del libro di George Orwell leggendolo praticamente viene anticipato il periodo che stiamo vivendo ci ha messi potremmo dire in guardia su quello che sarebbe potuto accadere che in buona parte è accaduto io vorrei dire una cosa su questa storia del complottismo i complottisti sono coloro che i complotti li fanno non coloro che li analizzano pensare che il potere agisca in modo lineare in modo trasparente e si muova per il bene dei cittadini è una stupidaggine quindi diciamo bisogna stare attenti a non cadere nel complottismo ma bisogna stare ancora più attenti a non cadere nella stupidità perché connaturata al potere è la mezzogna e quindi esempi storici non quindi di congetture su ciò che il potere sta congegnando ma esempi storici di fatti avvenuti ce ne sono appalate appalate voi pensate a morto recentemente Colin Powell lo ricorderete che all'ONU sventolava la provetta che doveva secondo lui dare le prove delle armi chimiche delle armi di istruzione di massa in mano Saddam Hussein per giustificare così l'invasione dell'Iraq abbiamo poi saputo che queste prove erano false l'hanno messo loro stessi nel frattempo l'Iraq è stato raso al suolo e reso un inferno sulla terra chi lo diceva allora veniva tacciato di essere un complottista solo in Italia abbiamo una sfizza di eventi ad esempio Ustica strage di Ustica che vi ricorderete o almeno chi studia queste cose lo sa quando ci fu il disastro dove morirono oltre 80 italiani si disse che era stato un cedimento strutturale dell'aereo e si sostenne questa tesi fino al punto di far fallire la compagnia aerea Italia che aveva organizzato quel volo successivamente è stato dimostrato dalla magistratura che quell'aereo è stato colpito perché si è provato a suo malgrado in uno scenario di guerra di cui non sappiamo ancora chi sono gli attori ma sappiamo che così è andata ma chi sosteneva che il cedimento strutturale dell'Italia fosse una balla allora veniva definito un complottista e potremmo andare avanti a lungo cito soltanto un ulteriore esempio la strage di Bologna strage di Bologna che ci è sempre stato detto anzi si diceva che non si sapeva bene che fosse stato sono stati condannati alcuni terroristi dei NAR ma il mandante non lo si conosceva l'anno scorso la procura di Bologna ha rinviato il giudizio ma ovviamente il processo non si celebrerà perché i rinviati a giudizio sono tutti quanti morti ma ha ipotizzato che i mandanti di quella strage fossero di Ciogelli capo della loggia P2 che era un pezzo importante dello Stato e soprattutto Federico Umberto D'Amato che era il direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni negli anni della strategia dell'attenzione era l'uomo forte degli americani medaglia d'oro alla resistenza e era l'uomo che tirava i fili della nostra intelligence oggi la magistratura ci dice che nell'ipotesi accusatoria uno uomo dello Stato come Federico Umberto D'Amato potrebbe essere il mandante di una strage sanguinosa come quella di Bologna ecco a ipotizzare cose di questo genere un po' di anni fa si veniva definiti complottisti non vorrei che il complottista fosse semplicemente uno che analizza le cose e arriva alla verità prima di quelli che invece fanno di genere ultimamente ci ripetono spesso il concetto di nuova normalità cosa prevede per i Fabiani questa nuova normalità? la nuova normalità è quella che già stiamo vivendo da due anni è quella e ancora siamo in fase iniziale la nuova normalità è quella per la quale le libertà che eravamo abituati a dare per scontate e che dovevano sarebbero dovute essere garantite dalla Costituzione da adesso in avanti non è più così queste libertà le potremo esercitare solamente se saremo dei cittadini in modello secondo gli stati cui apparteremo quindi attraverso strumenti di controllo tecnologico come il Green Pass che appunto si chiama Green e quindi diciamo c'entra poco con la pandemia noi i nostri le nostre libertà e i nostri diritti saranno l'intensità di questi sarà regolata a seconda dei nostri comportamenti ma queste cose sono già una realtà in alcune zone della Cina ad esempio il sistema dei crediti sociali cosa vuol dire questo? vuol dire che tu vieni identificato tecnologicamente il Green Pass è un QR code è una sorta di codice barra che ti identifica come identità digitale e diciamo la tua il tuo comportamento sociale ad esempio il pagare le tasse puntualmente il pagare le bollette puntualmente il non inquinare oltre quello che lo Stato ti consente di poter inquinare in termini di emissioni per esempio della tua auto della tua caldaia eccetera e mille altre questioni potranno da adesso in avanti essere revocate o comunque limitate dallo Stato quindi vi rendete conto che questa nuova normalità è pesantemente differente da quella che eravamo abituati a vivere noi sapevamo che nessuno ci poteva obbligare a non uscire di casa a meno che non ci fosse una sentenza passata in giudicato di un magistrato per un reatto che avevamo commesso e invece noi abbiamo visto che possiamo essere bloccati in casa dalla mattina alla sera che possiamo uscire solo con la giustificazione scritta che noi possiamo incontrare parenti e amici solo se lo Stato ritiene che questo non costituisca un pericolo sanitario che le libertà economiche che esercitiamo non sono più tali perché lo Stato può chiudere le nostre attività in maniera preventiva può stabilire orari strampalati come quello dei propri fuoco alle 22 e soprattutto quello che noi possiamo vedere e qui ci confortano anche i dati è il fatto che questa nuova normalità preveda che se i cittadini non si mantengono con il proprio lavoro non sono liberi grazie alla propria professione e invece sono mantenuti da un sussidio statale per lo Stato è meglio perché tu sei un cittadino più controllabile e sei ricattabile perché se la tua sopravvivenza e la tua famiglia dipende non dal tuo lavoro ma da un sussidio che lo Stato ti eroga vuol dire che se tu non sei adempiente a quanto lo Stato ti prescrive questo stesso Stato ti può revocare il sussidio che ti consente di sopravvivere e in questi ultimi due anni da quando è scoppiata questa follia sono enormemente aumentati e nel libro lo documento il numero di italiani che vivono di vari tipi di sussidi da quello del reddito di cittadinanza al reddito di inclusione alla cassa integrazione e a tante altre questioni e il disegno che c'è dietro questa cosa che sta avvenendo è quello di distruggere il lavoro e creare eserciti di sussidiati che se ci pensate è una conseguenza anche inevitabile dell'estrema tecnologizzazione dei processi lavorativi fino ad arrivare alla robotizzazione che in alcune realtà è già oggi ampiamente praticata cioè queste masse disoccupati che in prospettiva si creeranno come facciamo ad evitare che diventino un problema sociale gli diamo un sussidio la conseguenza del sussidio è che però tu sei totalmente nelle mani dello Stato secondo te tutto questo è un processo irreversibile o siamo ancora in tempo per poter fare qualcosa? io credo che siamo ancora in tempo perché ho dei segnali che mi dicono che questo sforzo prometeico potremmo definirlo di questi poteri sta incontrando delle grosse difficoltà dico questo perché innanzitutto anche chi frequenta le piazze ha visto in questi due anni crescere enormemente le persone che protestano all'inizio si era in poche decine in poche centinaia adesso ogni manifestazione che c'è richiama migliaia di cittadini il mondo non è vero che sta andando nella direzione in cui sta andando finora l'Italia i paesi dell'est Europa la Russia in testa hanno vissuto questa vicenda con molta molta più libertà i tassi di vaccinazione sono molto più bassi gli Stati Uniti sono stanchi del partito democratico liberficile appena dopo pochi mesi della lezione di Joe Biden nello scorso settimana in Virginia che è una roccaforte democratica è un po' come l'Emilia Romagna qui in Italia per il partito democratico ha vinto un candidato repubblicano molto vicino a Trump per la prima volta nel New Jersey che è un'altra roccaforte democratica il repubblicano è arrivato vicinissimo alla vittoria questo ci dice che la narrazione sta cambiando nel resto del mondo e anche in Italia si vedono dei segni oltre alla partecipazione che vi dicevo prima alle manifestazioni è uscito la scorsa settimana o due settimane fa uno studio dell'Università Cattolica di Milano la quale ha preso un campione rappresentativo di italiani 6.000 persone in particolare e gli ha chiesto se ritengono che il Green Pass imposto per lavorare sia una cosa giusta e il 52% ha risposto di no che non è una cosa giusta in più è stato chiesto se sono convinti che il Green Pass sia utile a contenere i contagi e il 44% ha risposto che secondo loro non è utile a contenere i contagi quindi voi vi rendete conto che diciamo almeno metà degli italiani nonostante che siano due anni che ci terrorizzano in tutti i modi che tutto l'apparato massmediatico del regime batte la gran cassa a tutte le ore del giorno se c'è una metà di italiani che non crede più questa narrazione vuol dire che siamo sulla giusta strada così anche c'è da dire che c'è stata una risposta a questo potere così verticale editario che abbiamo descritto finora è stata una risposta orizzontale interessante in questi mesi la creazione della scuola parentale la creazione di centri di medicina dolce alternativi agli ospedali pubblici che impongono sempre più regole e paletti per poter accedere l'impegno nella politica locale che è quella più accessibile di nuovi movimenti che si differenziano su questo tema e sul tema delle libertà insomma io vedo un'energia che sta provocando da un lato una reazione dello Stato che stringe sempre di più i bulloni ad esempio proprio oggi ha stabilito che non si potrà più manifestare nei centri storici quindi c'è una recrudescenza autoritaria una torsione autoritaria dello Stato italiano che io leggo come un segnale di grossa difficoltà quindi più sei in difficoltà più diventi cattivo più stringi i bulloni però ecco io ritengo che anche sul piano internazionale non siamo soli in questa battaglia di libertà e che quindi le cose possono cambiare occorre pazienza occorre spirito di sacrificio che una parte rilevante di italiani ha dimostrato di avere la capacità di soffrire è una capacità fondamentale per fare grande un popolo e devo dire che gli italiani che ad esempio pur di non sottoporsi non piegarsi al ricatto vaccinale si fanno due tre tamponi a settimana per poter continuare a lavorare sono italiani che stanno dimostrando schiena dritta e capacità di soffrire per mantenere una posizione quindi io sono nonostante lo scenario che abbiamo descritto ottimista davide grazie per essere stato qui con noi alla prossima grazie grazie a voi se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a mettere il like alla pagina condividerlo ad iscrivervi sul canale youtube ma soprattutto a telegram grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti